In questo video che cos'è il test di Saccomanni, a cosa serve, come si fa e quanto è affidabile. Il test di Saccomanni è stato creato per capire se il dolore alla spalla origina dall'articolazione acromion claveara. Ve la mostro. Si tratta dell'articolazione tra la clavicola, c'è l'osso nella parte superiore del petto, e l'acromion, diciamo la punta della spalla, quella che si sente nella parte diciamo più esterna della spalla, che fa parte della scapola. Quindi l'acromion forma un'articolazione con la clavicola e per capire se il dolore origina da lì si effettua questo test chiamato di Saccomanni dal nome del suo inventore. Test di Saccomanni. Per fare questo test il paziente è in piedi di fronte al terapista. Da qui deve sollevare il braccio, portarlo più possibile in adduzione, e poi il test di Saccomanni è in piedi di fronte al terapista. Poi, mentre l'esaminatore stabilizza la spalla e evita la rotazione del torace, bisogna che il paziente tenga il gomito disteso, ruoti la spalla all'interno, quindi il pollice guarda verso il basso, e poi il paziente deve spingere verso l'alto il braccio, in questo modo. Il test è positivo se il paziente ha dolore oppure se non riesce a tenere il braccio in quella posizione, mentre l'esaminatore spinge verso il basso e quindi il braccio cade. Il test di Saccomanni è affidabile? Questo test ha una sensibilità del 98%, quindi un valore molto alto, significa che solo il 2% dei casi sono falsi e negativi. Inoltre ha una specificità del 91,7%, significa che solo l'8,3% dei casi sono falsi e positivi, quindi ha una fidibilità molto alta. Lo potremmo definire anche come una variante o un'evoluzione del cross arm test e questa maggiore affidabilità è data, secondo l'autore, quindi secondo Saccomanni, dalla spinta verso l'alto che effettua il paziente contro la resistenza dell'esaminatore e questo permetterebbe di avere dei dati più alti di sensibilità e specificità. Se il video ti è piaciuto, clicca sul pollice alto, condividi con i tuoi amici, lascia un commento qui sotto per qualunque domanda o suggerimento, seguici sui social, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere i prossimi video che caricherò e ora guarda il video successivo.